Buongiorno a tutti. Sono particolarmente lieto di portare i miei saluti in questo convegno che celebra i 20 anni della pubblicazione delle linee guida Uni-INAIL nei suoi sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Sono orgoglioso che l'INAIL sia stato uno dei promotori della redazione di questo importante documento. 20 anni fa poteva sembrare poco applicabile, perché forse troppo evoluto, ma invece ha rappresentato uno strumento prezioso per delineare strategie di azioni efficaci che oggi consentono di ottenere risultati tangibili. L'INAIL in questi anni ha contribuito fattivamente ad orientare l'adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro con le proprie competenze. Numerosissime le linee guida di settore, gli interventi formativi, gli eventi seminariali, le collaborazioni in ambiti accademici che risultano fondamentali per tracciare sentieri innovativi, che oggi vedono la pubblicazione di norme tecniche dedicate ai percorsi di asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fondamentale dunque il supporto fornito in tema di normazione sia nazionale, cioè presso l'UNI con le linee guida Uni-INAIL, ma anche con la normazione internazionale in sede ISO. Relativamente ai processi di certificazione accreditata, l'Istituto è presente in qualità di socio di Accredia e contribuisce regolarmente alla vita dell'ente unico di accreditamento italiano con dei propri rappresentanti. Vorrei sottolineare l'importanza degli organismi paritetici che, nell'ambito del proprio compito di supportare le aziende nell'organizzazione della sicurezza nel luogo di lavoro, possono attuare una sorta di controllo sociale, un controllo che non si sostituisce in alcun modo a quello degli organi di vigilanza, ma che può costituire un importantissimo ausilio per il miglioramento delle performance prevenzionali delle aziende. L'efficacia prevenzionale dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro è dimostrata da uno studio INE e Accredia, che rileva che le aziende certificate hanno un minore incidenza di termini di frequenza infortunistica, 16% e del 40% in termini di gravità. Nonostante questo però il numero delle aziende che adottano questi sistemi è ancora decisamente troppo basso. È dunque necessario uno sforzo sinergico, convinto e congiunto da parte non solo delle istituzioni ma di tutti gli attori della prevenzione per contrastare la piaga sociale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. L'INAIL è in prima linea oggi come vent'anni fa. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.